questa sera sarà una cosa, un ricordo per le persone che già lo sanno e una nota introduttiva per chi è appena arrivato ci sono tre cose che dobbiamo avere chiare prima che iniziamo la pratica la prima è che cosa intende il Buddha per la giusta presenza la seconda è come facciamo con questi stati mentali che ci portano via da questo e che cosa dobbiamo investigare esattamente e poi spero di darvi due metafore che ci aiuteranno a capire il processo che stiamo attraversando adesso per capire la giusta presenza possiamo ricordare le esperienze e la vita del Buddha ricordate che ha lasciato casa con quella che noi oggi chiameremo una crisi esistenziale la storia e il mito ci raccontano che un giorno vede una persona malata una persona vecchia e un ascetico e quello che ha visto è che la malattia, la morte e la vecchiaia stanno per arrivare arrivano per tutti e quindi poteva esserci una via d'uscita alcune persone si rendono conto che c'è la malattia e la morte anche quando sono bambini la maggior parte delle persone invece se ne accorgono quando hanno circa 25 o 30 anni appena la gioventù sta per arrivare alla fine e guardi avanti con la meraviglia della mezza età per alcune persone il Buddha ha detto che non succede fino al momento della morte ed è certamente meglio realizzare queste cose molto prima l'orrore del tempo era che c'era questo ciclo continuo di vita e morte ed era, non c'era speranza di scappare da questo ciclo e ricordatevi che potevate rinascere come qualsiasi essere nel cosmo e quindi si creò un movimento prima del Buddha di persone che volevano vedere se poteva esserci una via d'uscita da questo e c'erano molte persone che credevano che la vita era semplicemente c'era un fatto e che quindi non c'era speranza di uscire non c'era speranza di uscire e altre persone erano materialiste e quindi quando sei morto è finita così quando è entrato nella pratica dell'asceticismo c'erano molti insegnanti e molte idee era sotto pressione per cercare di risolvere questa crisi esistenziale e questo gli fece lasciare la sua famiglia il fatto che era molto disturbato da questa cosa ce lo dice che ha lasciato la sua famiglia nel momento in cui il figlio è nato alcune persone pensano che questa sia una cosa terribile ma io cercherò di dargli una nota positiva di solito le persone non lasciano la famiglia a meno che non c'è una buona ragione e non l'ha proprio abbandonata c'era una famiglia più estesa intorno la prima cosa che ha provato è quella che oggi chiamiamo il jana e il suo primo insegnante gli ha insegnato ad attraversare questi diversi livelli di assorbimento ed era così bravo che fu invitato a diventare un insegnante con lui eppure questa pratica non aveva dato una soluzione al suo problema più profondo perché quando era in uno stato di completo assorbimento era in paradiso era una cosa meravigliosa ma quando lasciava l'assorbimento la concentrazione si ritrovava ansioso e depresso quindi trovò un altro insegnante che l'ha mandato un pochino più avanti in questi assorbimenti, in questi esercizi di concentrazione e di nuovo fu invitato ad insegnare e di nuovo si accorse che non era un metodo definitivo questo era un metodo particolare che era molto sviluppato al tempo del Buddha e gli insegnanti gli dissero che questa è la cosa migliore che potevi aspettarti e c'era un altro sistema che aveva a che fare con l'automortificazione e il motivo dietro questa teoria era che il corpo era un'espressione del karma negativo quindi ad esempio la fame era creata dalla lingua e quindi se potessimo liberarci del nostro corpo la nostra anima poteva salire fino a questo stato paradisiaco e questo era l'insegnamento del leader Jen e la comprensione dietro a questa teoria era che si accumulava cattivo karma anche quando non c'era intenzione di fare una cosa negativa ad esempio avete visto monaci cianisti che spazzano la via dalle formiche per non ucciderle l'idea era di denutrire il corpo e piano piano lasciarlo andare e questo è fatto ancora dai genisti e specialmente quelli più anziani provò anche quella pratica ma alla fine la abbandonò si racconta che era così magro che potesse toccare la sua spina dorsale attraverso lo stomaco quindi se ci provate vedrete che era molto molto magro e ha detto che era ancora più sofferenza e quindi abbandonò quella pratica e i suoi cinque compagni pensavano che si era rammollito c'è una figura di lui seduto sul lato della strada e una donna passò con un'offerta per un dio locale con un'offerta di un dolce e nel vedere questa povera persona ha pensato forse potrei offrirgli del cibo e prese il cibo e a quel punto ebbe una memoria un ricordo è molto importante capire che quel punto arrivò proprio quando era al pinnacolo della sua disperazione ha provato questo insegnante, quest'altro insegnante eppure non ha ottenuto nulla non riesce a vedere un futuro e in quel momento una donna arriva e gli offre del cibo e quindi le donne hanno un ruolo importante, un seme importante nel ruolo della liberazione e a quel punto ebbe una memoria, un ricordo si ricorda che vide il padre fare una cerimonia dell'arato una cerimonia durante il periodo dell'arazione aratura e si ricorda che da bambino era completamente assorbito ma c'era qualcosa di differente dall'assorbimento che aveva praticato mentre con quel tipo di assorbimenti voleva creare degli stati mentali meravigliosi quello che invece guidava l'osservazione dell'aratura del padre era guidato da un intenso interesse questa è la mia interpretazione come un famoso accademico tutto il suo processo cominciò a cambiare su se stesso prima stava cercando di fuggire dalla sofferenza adesso si gira e si chiede come sto creando la sofferenza ed è con questa ispirazione ed è con questa ispirazione che va a cercare un posto bello vicino al villaggio ad una media distanza non troppo lontano così poteva dal villaggio così poteva ancora chiedere del cibo ma non troppo vicino così poteva non essere disturbato e si fece un cuscino d'erba molto morbido per sedervisi sopra e con questa nuova ispirazione e con questa nuova ispirazione cominciò ad investigare se stesso e qui abbiamo un'immagine della giusta presenza prendiamo in considerazione un bambino un piccolo bambino tre, quattro, cinque, forse sette anni prima che la mente concettuale diventi proprio più sveglia sono sicuro che avrete notato che un bambino che nota un ragno per la prima volta è completamente assorbito in quel ragno gli occhi si fissano perdono ogni contatto con il resto del mondo e la mandibola cade rimane a bocca aperta quindi con la nostra comprensione cominciamo a vedere che capiamo che sono ah, gauntless ah, gauntless no, no gauntless come si dice sembrano quasi sceglie ecco, così ah, ok sono rimbambiti 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 sì so the parent usually wakes them up di solito i genitori li svegliano in which case they ruin all possibility of enlightenment at that moment e in quel momento rovinano ogni possibilità di illuminazione per il bambino quando finisce di essere assorbito da questa cosa si gira verso i genitori e chiede che cos'è e i genitori dicono a questo punto il bambino ha una percezione e poi ha un'etichetta ragno quindi la prossima volta che il bambino vedrà un ragno non guarderà più il ragno ma la sua gioia deriva dal fatto che adesso c'è un'etichetta e può dire ecco, questo è un ragno e anche i genitori sono contenti e dicono che bello e quindi aumentando l'illusione del povero bambino ecco dove siamo adesso ogni volta che vediamo una cosa la vediamo da un punto di vista storico da quello che già conosciamo non possiamo guardare a questa campana senza metterla nel contesto di altre campane che abbiamo visto tutto quello che vediamo deve rientrare in un concetto di una cosa che già conosciamo e senza accorgersene il concetto che abbiamo di questa cosa distorce la realtà di questa cosa quindi quando un artista guarda un bambino lo che stanno facendo è veramente guardare l'individualità di questo bambino quando un artista ad esempio guarda un albero guarda la particolarità di quell'albero solamente ed è esattamente quello che dobbiamo fare dobbiamo tornare a guardare queste cose con gli occhi di un bambino e questo lo facciamo fermando il processo del pensiero e mettiamo l'attenzione direttamente nei nostri sensi quindi se ci ricordiamo l'immagine del bambino ci diamo un'idea del tipo di presenza che dobbiamo mantenere adesso dobbiamo diventare chiari su cosa ci ferma da ottenere questo e queste sono le abitudini che abbiamo sviluppato durante la nostra vita e queste abitudini hanno una forza tremenda quindi se c'è il desiderio di una cosa non sana come ad esempio l'ansia per una cosa non piacevole come l'ansia e tutte queste sensazioni piacevoli attraverso attraverso sex, drugs and rock and roll lo sapete anche in italiano quindi c'è questa connessione questo modo di essere nel mondo che è guidato da nostre emozioni quindi c'è questa connessione questo modo di essere nel mondo che è guidato dalle nostre emozioni naturalmente ci sono degli stati mentali positivi l'amore, la compassione, la gioia, la gratitudine, eccetera ma anche questi possono essere corrotti dalle nostre incomprensioni e dalle nostre cattive intenzioni o intenzioni non comprese quindi torniamo alla nostra pratica quando il cuore offre qualcosa deve essere esperito esattamente per quello che è l'emozione vuole esprimersi o indulgersi attraverso la mente e quindi la mente comincia a creare delle storie e poi cominciamo ad accorgerci che queste storie nutrono gli stati mentali che possono farci del male ad esempio sappiamo che se abbiamo della rabbia intorno a qualcosa la mattina e continuiamo a pensarci quando arriviamo a letto la sera siamo veramente infuriati e quindi con tutti questi stati mentali che sorgono il nostro lavoro è di lasciare da parte la mente pensante e quindi torniamo al corpo per sentirle come sensazioni quindi è la stessa tecnica è la stessa tecnica tutte le volte esperire l'emozione come un'esperienza nel corpo ed è andando a fondo a questa sensazione che il cuore può finalmente lasciare andare quindi a volte quando fate questa cosa lo stato emotivo può peggiorare pensavate di essere solo arrabbiati ma quando vi aprite veramente vi noterete che siete veramente arrabbiati a volte avviene così velocemente che può spaventarci in quel caso sentitevi liberi di fermare la pratica la meditazione forse fate una piccola passeggiata e poi respirate profondamente e tornate a praticare perché questa è la terapia perché questa è la terapia e quindi con le hindrancesi sono chiamate come hindrancesi questa è la stessa tecnica e con gli impedimenti usiamo la stessa tecnica a parte dall'impedimento della letargia e la mente non chiara questi stati mentali che hanno a che fare con la brama e l'avversione l'irrequietezza e il rimorso il senso di colpa e il dubbio il dubbio scettico il dubbio scettico tutti questi sono come dei turbini dei cicloni ma questa qualità di letargia ma questa qualità di letargia è come una piscina è come un mulinello che ci porta giù vuole portarci giù fino all'oblivio l'oblivio è bellissimo non c'è sofferenza quindi quando vediamo che l'oblivio arriva alla fine ritorniamo su e abbiamo delle sensazioni negative quello stato è importante come l'ansia e la depressione ed è una cosa sulla quale veramente dobbiamo lavorare e superare come facciamo a superarla? siamo svegli apriamo gli occhi possiamo alzarci ma prima dobbiamo abbandonarci a quella sensazione ed è solo in quel momento che il cuore può purificarsi la turbolenza nel cuore riesce a purificarsi solamente quando sale su nella coscienza altrimenti rimane bloccata nella psiche e a volte la turbolenza è così grande che può avere un effetto sul corpo come ad esempio una malattia quindi lavorare con questi impedimenti è il 99% del nostro lavoro quindi c'è una connessione fra la saggezza e l'etica se leggete le scritture il Buddha insegna solo due cose il comportamento etico e la trascendenza il nostro comportamento etico è un'espressione della nostra illusione o saggezza più sviluppiamo le nostre virtù e più diventiamo saggi e quindi c'è un link diretto fra il processo di purificazione è il processo di liberazione e il processo di purificazione e quindi che cos'è che dobbiamo investigare? quindi dobbiamo stare attenti perché se facciamo la pratica come terapia psicologica possiamo perdere l'insight la psicoterapia avviene in maniera naturale se pratichiamo per l'insight il primo è questo processo di brama oggi abbiamo visto ad esempio attraverso il mangiare questo desiderio di cui abbiamo parlato viene dall'illusione viene dalla nozione di un senso di sé è egoista vuole solo pensare a se stesso e questo crea delle barriere fra me e gli altri fra me e la natura e cerca di manipolare il mondo per sentirsi felice quindi quando qualcosa diventa un pochino spiacevole il desiderio è di liberarcene e se non possiamo liberarcene mettiamo la mente su qualcosa che è piacevole e se qualcosa invece è piacevole vogliamo svilupparlo trattenerlo tenerlo per noi stessi con questo desiderio siamo costantemente in conflitto con il mondo quindi non bisogna confondere quel tipo di desiderio dal desiderio che invece viene da stati mentali sani salubri se c'è un desiderio che è nato dalla compassione o dal senso di prendersi cura queste cose sfoceranno in un cuore molto bello quindi dobbiamo darci il tempo di vedere quando il desiderio sorge se vedere se è sano o non sano e se ci diamo abbastanza tempo possiamo far sì che le cose che non sono sane possono andare via se state con quel tipo di desiderio fino alla fine potreste vedere quella trasformazione nessuna energia è persa in quel processo tutto è trasformato se c'è una persona con la quale siamo arrabbiati se osserviamo questa rabbia fino alla fine potreste vedere la compassione che sorge ma dobbiamo rimanere fino alla fine quindi questi sono gli impedimenti con i quali dobbiamo lavorare e questo naturalmente porta una certa saggezza nella nostra vita e poi c'è l'impermanenza la cosa è che sappiamo veramente quando una cosa inizia la mente cerca sempre di guardare avanti cerca sempre per delle cose nuove la nuova vacanza, la nuova canzone, la nuova persona perché questo ci dà l'impressione che ci sia vita, energia, eccitazione non ci piace vedere la fine di questo cosa è successo a queste pop stars ad esempio ci rendiamo conto quando ci ammaliamo con un raffreddore ma notiamo la fine del raffreddore la mente immediatamente va da un'altra parte tutte le fini sono delle piccole morti e non ci piace andare lì a osservare quello quindi quando arriviamo alla fine di qualcosa la mente salta verso qualcos'altro e quindi portare l'attenzione alla fine delle cose ci fa entrare in contatto con la nostra mortalità e ci rende più realisti sulla vita ma fa più di questo crea un'intimità con la vita per quello che è se la mente costantemente pensa a quello che faremo non siamo mai nel momento presente e quello che pensiamo che succederà o che dovrebbe succedere non è mai sicuro e quindi viviamo in un sogno futuro ma falliamo nel vivere nel momento presente e quindi dobbiamo chiederci qual è il significato della nostra vita e portarlo al momento presente quindi entrare in contatto con la morte di ogni cosa ci porta verso la vita presente il momento presente e anche se il momento presente è terribile almeno siamo realisti e in quel modo possiamo prendere delle decisioni sagge su come trattare questa situazione il Buddha ha detto che la meditazione più potente è la meditazione sulla morte l'ultima caratteristica naturalmente è quella dell'essere il Buddha non ha detto che non c'era il sé ha detto che non era reale è una cosa che noi produciamo dentro la nostra mente e la qualità del sé è controllata e quindi nel secondo discorso la sua cinque compagna disse se questo fosse veramente il mio corpo potrei imporgli di far crescere dei capelli adesso ho provato ma non funzionato quando cominciamo ad esplorare le cose su cui abbiamo controllo ci accorgiamo che c'era veramente poco e quindi il sé diventa spaventato e comincia a restringersi l'altra qualità del sé è che pensa che non cambia mai che è sempre qui ma quando ci addormentiamo dov'è il sé ci svegliamo la mattina e diciamo ah sono io di nuovo o non sono io di nuovo o non sono io di nuovo vediamo quando ci svegliamo e in ogni momento c'è questo senso di me avete mai avuto l'esperienza di essere a casa di un amico o in un posto differente e vi svegliate e non sapete chi siete o dove siete e poi avuto l'esperienza di essere a casa di un amico e tutto un tratto diciamo ah sono io ah quel momento di assenza di sé è completamente pauroso terrificante quindi il caso è di riconoscere le limitazioni della cosa che noi chiamiamo me so it's two things control and impermanence quindi sono due cose controllo e impermanenza so we've discussed right awareness the image of a child's face abbiamo parlato della giusta presenza abbiamo parlato del bambino abbiamo guardato in maniera un po' superficiale come stare con gli impedimenti e abbiamo parlato un pochino delle tre caratteristiche dell'esistenza come creiamo sofferenza l'impermanenza e l'assenza di sé so what I want to do is just leave you with two images or two metaphors which explain the process we're going through adesso voglio lasciarvi con due immagini o metafore del processo che stiamo attraversando it's seemingly when we are born for the first four months all we experience is a a deluge of information una volta nati per i primi quattro mesi abbiamo un'esperienza di una balanga di sensazioni we see things we hear things we feel things and so on vediamo le cose ascoltiamo le cose assaggiamo le cose e non riusciamo a concludere niente non riusciamo ad avere un senso per queste cose ma sappiamo che una cosa fa male e l'altra è piacevole e poi dopo quattro mesi sembra che un oggetto comincia ad uscire fuori da questa valanga di informazioni e di solito è vostra madre o chi si prende cura di voi quindi per i prossimi due anni il bambino porta fuori il mondo per crearlo tridimensionale e facendo così comincia a diventare conscio di se stesso come un individuo e quindi all'età di circa tre anni il bambino sa ma questo sono io e tutti gli altri non sono io il processo è molto complicato e molte persone hanno un po' difficile di fare questo ma questo è il processo di spingere il mondo all'interno questo processo è molto complicato alcune persone non riescono a farlo ma il processo è di spingere tutto il mondo verso il fuori siamo così convincati di questa capacità siamo così convinti di vedere le persone per quello che sono fuori da noi ma questo processo avviene continuamente la mente riceve costantemente questa informazione e poi la spinge fuori e crea costantemente un mondo quello che stiamo facendo è portare il nostro mondo interiore verso il fuori vogliamo rendere vogliamo rendere il mondo interiore oggettivo come il mondo esteriore è quello che spingiamo fuori è quella presenza intuitiva che è intuitive awareness intuitive awareness quella presenza intuitiva e mentre il bambino tira fuori questo mondo per creare il mondo tira fuori questo mondo noi spingiamo fuori noi spingiamo fuori il nostro mondo interiore per scoprire la nostra vera natura e quello è il nostro Buddha interiorizzato interiore questa è la prima metafora la seconda ha a che fare con Narciso Narciso era un bel ragazzo e quando si innamorò e si innamorò di se stesso quando guardò nel laghetto nel lago now usually the myth is seen as an expression of self-love of narcissistic behavior we say narcissistic di solito il mito parla dell'amore narcisista but from a spiritual point of view this Narciso has seen an image of himself in the water dal punto di vista spirituale Narciso ha visto la sua immagine nell'acqua he presumes that this image is his real self pensa che questa immagine sia la sua vera natura il suo vero sé and therefore he goes to embrace it e quindi va per abbracciarlo and he falls into the water the pond he drowns into the pond e cade nel lago e annega in mythology water is always creative nella mitologia l'acqua ha sempre un potere creativo so this is what's happening to us all the time until we become fully liberated ed ecco quello che succede a noi di volta in volta fino a che non raggiungiamo l'illuminazione completa la presenza la presenza vede la presenza di se stesso sullo schermo della coscienza e questa coscienza va e viene in ogni momento e con ogni flash ci fa vedere un senso di spazio quindi la presenza vede se stessa e poi vede il mondo vede se stessa e poi ascolta il mondo vede se stessa e poi assapora il mondo è così incantata che cade nel mondo della mente e questo è il processo dell'illusione e il problema dell'illusione è che non sappiamo di essere illusi questa è la definizione dell'illusione quindi il nostro processo è di tornare indietro e vedere questo processo e di vedere come creiamo il mondo ed è possibile specialmente per le persone che si fermano per una settimana che un gran senso di pace e di calma possa arrivare e c'è un senso veramente della persona che osserva dell'osservatore dell'osservatore che sa se per un momento possiamo guardare indietro all'osservatore e ci domandiamo che cosa c'è dentro e qui capiremo e lì capiremo la parola vuoto il nibbana è vuoto è vuoto del mondo fisico e psicologico e per il Buddha questa è la felicità più grande e quindi c'è una rinuncia e quindi c'è una rinuncia del mondo del piacere per cercare la felicità e il Buddha che era una persona liberata viveva in un mondo di persone non liberate non aveva nessun problema con questa cosa ecco la direzione in cui ci stiamo andando non è male spero che le mie parole vi siano di aiuto spero di non avervi confuso di più e con il vostro sforzo vi libererete da tutta la sofferenza prima piuttosto che dopo ah ah very good so it's a bit I always over speak if we and and